Ma siamo un paese, in democrazia ognuno può dire quello che vuole, perché l'attaccava sempre? Sì, sì, cosa ne ho fatto? Cioè io voglio capire cosa ne ho fatto? Niente. E allora basta. Niente, ma sto qui. Io sto qui, però basta. Poi è pesante, c'è sempre atteggiamento, atteggiamento. Sono pesante, ecco questa è una cosa giusta da dire a una persona più grande di te. Giustissimo, sei pesante, c'è pure dandomi del tocco. Sei pesante ho detto, la situazione.